Salute! Grazie! Allora, che farai adesso? Dopo essere stata qui per tanti anni... Aiutami a dire tanti... O... Potrebbe essere... Difficile, per una della tua età, rientrare nel settore privato. Ehi, Kronk! Dammi ancora un goccetto, fammi il favore! Comunque, non penso a un nuovo lavoro. Credo che sarà difficile. Vuoi broccoli? Perché, diciamocelo, non sei più una buola estrella di prima penna. Ecco, in senso buono, ovviamente.